Ormai anche se mancano 10-11 mesi alle prossime elezioni amministrative, si può dire che la campagna elettorale è già iniziata. Il prossimo anno i cittadini fanesi, come quelli di molti altri comuni, saranno chiamati ad eleggere il sindaco e gli altri componenti del Consiglio Comunale. Fano, terza città delle Marche, è una piazza molto contesa tra le forze di centrosinistra e quelle di centrodestra che dai 10 anni dell'amministrazione Aguzzi, giunta di centrodestra, seguiti dai 10 dell'amministrazione Seri, giunta di centrosinistra, avvertono l'opportunità di riconquistare il Comune. Tra le prime che si è posta in attività è Forza Italia, che sull'onda emotiva provocata dalla scomparsa del suo leader ha incentivato la sua attività politica. Domani e domenica vedremo le bandiere di Forza Italia a Fano e a Pesaro fare propaganda per il tesseramento. Le iniziative sono state illustrate nel corso di una conferenza stampa da parte dell'ex sindaco, ora assessore regionale Stefano Aguzzi, dal responsabile della sezione fanese Enzo Di Tommaso, da Margherita Mencoboni, responsabile degli enti locali Marche Nord, da Laura Scalvi, responsabile provinciale di Azzurro Donna e da Elisabetta Foschi, in qualità di commissario provinciale. Che cosa state organizzando? Dopo un primo momento di sconforto che abbiamo inevitabilmente avuto per la notizia del decesso del nostro Presidente, abbiamo inteso subito ripartire così come fondamentalmente aveva detto lui in quella sorta di messaggio che oggi sembra un po' un testamento politico, quel videomessaggio che ci aveva mandato a Milano i primi di maggio alla ultima convention nazionale in cui chiedeva di portare avanti gli ideali di libertà, liberalismo, europeismo, garantismo propri di Forza Italia e di andare avanti dicendoci che sarebbe rimasto con noi sempre con lo stesso entusiasmo del 1994, intendendo queste sue ultime parole all'Assemblea pubblica di Forza Italia come un mandato esplicito e abbiamo deciso di ripartire subito portando avanti le iniziative che aveva programmato direttamente lui, quali le giornate del tesseramento del 24 e del 25 che faremo appunto a Fano sabato 24 lungo Corso Matteotti in prossimità del Pinobar, domenica a Pesaro nella galleria del centro commerciale Ipercop e nel pomeriggio lungomare in Viale Trieste. Quindi la campagna elettorale è già iniziata, avete cominciato a fare degli incontri ovviamente per preparare il rilancio in vista delle elezioni del 2024? Assolutamente sì, ma quello che dico sempre io è che in questi anni abbiamo visto che mentre c'è una capacità da parte degli elettori di scegliere il proprio candidato in base alla persona, poi in realtà non c'è sempre quella capacità da parte degli eletti di rappresentare gli interessi di una propria comunità ma magari sono più più chiamati a rispondere agli interessi, alle indicazioni magari di un partito. Anche i sindaci nelle varie conferenze, nelle varie assemblee spesso rappresentano la parte indicata dal partito piuttosto che dalla loro collettività. Io credo che questo modello non funzioni, non sia corretto e quindi noi ci rivolgiamo proprio agli amministratori, a coloro che intendono ricandidarsi, a coloro che si candideranno per la prima volta proponendo un modello di governo condiviso in cui le cose si affrontano, si concertano, si valutano e si decidono all'interesse di una collettività. Forza Italia non dà indicazioni di partito, chiede agli amministratori di rappresentare le loro comunità.